no 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 aspetta aspetta prendi prendico la busta è bello ma se avessi come sono saporito ecco la prenda a te ne vede la dacca sotto e certo e staccato e le vedi vedi per lui arrenda la mica sono tutto maniato ehi stiamo a scendere no, stai qua stai a scendere stai a scendere le porti in bocca e le lascia qua stai a scendere ma non se le stai a mangiare ma non se le stai a mangiare ma non le stai a mangiare le porti qua vedi che fa? si sta a scavare stai a scendere stai a scendere non si, non si vesa io non mi spiego non mi spiego non mi spiego io gli spiego ma non serve d'argomento no Oplà, sempre qui su, perché se cosa vanno a mangiare? Guarda qua, vedi? Come si è bravo. L'anno scorso mi giro in un giorno, non manca nulla, tu metti. Manca una pera, tu metti. Questi sono duri prano a voglia, non vedo. Consci esas. Inizialo... Allie sono un giro in un giro. Anche l'assist も. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti